I rischi che acquatica fosse rovinata dal maltempo c'erano, però fortunatamente la pioggia ha solo spaventato i partecipanti alla manifestazione organizzata l'11 e 12 giugno scorsi da Fabrizio di Laiuti e Comune di Bagni e Lucca e che vedevano i TV Media Partner. Sono stati due giorni intensi di iniziative che hanno portato gli ospiti a provare gratuitamente le terme, le piscine e le molte attrattive naturalistiche della Val di Lima, tra cui anche lezioni di pesca a Mosca. Durante la due giorni, tanti gli incontri culturali sul tema dell'acqua. Il sabato, lo chef Cristiano Tomei ha cucinato l'acqua e più esattamente ha usato l'acqua termale per rendere la vita e quindi il sapore ad un suo raffinato piatto. La domenica pomeriggio è stata la volta dello chef Luca Landi, il quale ha cucinato un'anguilla utilizzando uno speciale latte di farro con una gelatina naturale di aloe, completando il piatto con alcune erbette spontanee. Tanti gli incontri e tanti ospiti, tra i quali ha anche Marco Columbro. Acquatica è una splendida idea originale che può portare consapevolezza a tutti quanti di cos'è veramente l'acqua. Non è fonte di vita, ma è fonte di altre cose. Al termine delle due giornate, il sindaco Betti ha espresso piena soddisfazione per come si è svolta questa prima edizione di Acquatica.